Così oggi la preghiera ci accompagna. Signore Padre Santo, nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che il tuo figlio nascesse da donna e fosse a lei sottomesso. Donaci una conoscenza viva e penetrante del mistero dell'incarnazione del Verbo, per mitarlo nella sua vita nascosta fino al giorno in cui, guidati dalla Vergine Madre, entreremo esultanti nella tua casa. Ecco, in questa preghiera realmente noi ci erogiamo al Padre Santo, al Padre che è nei Cieli. Facciamo memoria come il figlio ha voluto nascere da una donna, dalla Vergine Maria, ma non solo nascere, essere a lei sottomesso. E quella vita nascosta di cui il Vangelo non ci dice nulla, sappiamo solo che saranno gli anni più lunghi della vita del Signore Gesù. Eppure è quella vita nascosta che ha segnato così profondamente la sua umanità, ma ha segnato anche profondamente la casa di Nazareth e deve segnare il nostro vivere la fede, momento per momento nel silenzio delle nostre azioni, nella quotidianità delle nostre azioni, veramente per poter poi esultare insieme nella casa di Dio. L'accogliamo così perché la fede deve toccare ogni momento della nostra esistenza.